E questo è mercoledì 8 gennaio, manca solo questo qui, e questo è, è di mercoledì 8 gennaio del 2025, se lo sto provando pure il mondo, è stato un elicottero dei vigili del fuoco a ritrovare i primi resti lungo la costa Salernità, che sono stati poi recuperati dalla guardia così, ha rapinato una donna sferrandole un pugno e quando ha visto i carabinieri si è barricato in casa, Giuseppe Crappetti, un 45enne già noto alle forze dell'ordine, il 28 aprile scorso a Napoli aveva rapinato una 41enne ferma in strada in attesa del marito che stava parcheggiando l'auto in via Conca, si era avvicinato alla donna e l'aveva colpita con un pugno al volto portandole via il cellulare che teneva tra le mani, la donna dopo essersi fatta medicare in ospedale si era subito recata a denunciare la rapina subita ai carabinieri, raccontando la dinamica e fornendo una dettagliata descrizione, l'uomo forse avvertendo il rischio dell'arresto si era reso irreperibile fino a quando i carabinieri lo hanno rintracciato nella sua abitazione nel quartiere di Pianura, e qui ha tentato di barricarsi in casa, una squadra dei vigili del fuoco a cui i militari hanno chiesto ausilio ha forzato la porta blindata e l'uomo è stato bloccato e sottoposto a fermo per la Pianura. Una bomba carta esplosa la scorsa notte davanti a un ristorante in via San Giorgio Vecchio a San Giorgio Germano, provincia di Napoli, ha provocato danni a un porto e finesse dell'attività, danni anche a cinque auto in sosta e a un negozio nei pressi del ristorante, ma per fortuna nessun ferito, Chiamo, chiamo, ce la faccio. Le fiamme gialle di nocera inferiore hanno controllato un soggetto di nazionalità italiana in possesso di svariati capi contro i fatti di vari mani famosi nel vettore dell'abbigliamento, posti in vendita in internet e sui social network. Il responsabile è stato denunciato alla competente procura della Repubblica per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. E anche oggi sono molto pesanti i disagi per i pendolari dei quartieri a nord di Napoli. Continua infatti la protesta dei dipendenti del deposito del Garittone. Molte linee sono sospese a causa del rigoroso controllo effettuato dai dipendenti sul parco bus. A provocare la protesta la notizia che dal primo giugno il deposito chiuderà i partenti. La decisione ha provato la reazione forte dei sindacati e dei lavoratori. I baschi verdi del gruppo Guardia di Finanza di Salerno hanno intensificato le operazioni di controllo nel territorio dell'area metropolitana del capoluogo provinciale. Cinque soggetti individuati, due nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo, sono italiani residenti rispettivamente a Battipaia e a Bellizzi, trovati in possesso di alcuni grammi di hashish. Altri due soggetti, entrambi i salernitani, sono stati individuati a mercatello quali detentori rispettivamente di alcuni grammi di hashish. La droga è stata sequestrata, i soggetti sono stati segnalati alla prefettura di Salerno per uso illicito di sostanze stupefacenti. Infine le fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro oltre 4 kg di tabacchi e lavoratori possi in vendita in un bar di Monte Corvino-Rovella, in assenza dell'autorizzazione prevista. Wow, che bello. Meccolo 18. Il mercato Oshana di Via Argine a Napoli, gli ex dipendenti ormai da giorni all'esterno dei magazzini, dopo aver bloccato l'ingresso agli addetti intenti a rimuovere la merce ancora all'interno, sono stati allontanati dalle forze dell'ordine. Stanno cancellando ogni traccia dello Oshana, un sindacalista e delle oltre 100 famiglie che qui vivevano. Anche l'insegna esterna presto sarà sostituita con quella del nuovo centro e purtroppo ci sentiamo sempre più impotenti rispetto a questo incubo che viviamo quotidianamente. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi. Amici, ben mercoledì 8. Stacco.